L'orpimento, conosciuto anche come solfuro di arsenico, è uno dei minerali che più mi è rimasto impresso, principalmente per la provenienza del campione esposto al Museo Gemma, la Moldavia, ma anche il mio paese di appartenenza. Fortunatamente, dalla ricerca effettuata, ho rinvenuto che non vi sono questo tipo di miniere nel territorio mondava attuale. Il campione dovrebbe perciò essere originario delle miniere della Romania, dalla storica regione Transilvania, che confinava con quella moldava del tempo. L'orpimento prende il nome dal suo colore giallarico, deriva infatti dal latino aurum pigmentum, letteralmente colorante d'oro. In passato era ampiamente utilizzato dai pittori come pigmento in polvere, avendo successivamente scoperto che altamente tossico, il suo utilizzo è stato limitato. Tutt'oggi viene impiegato per l'estrazione dell'arsenico, insieme al calce, per togliere pelle al pollame, oltre che per la produzione di fuochi d'artificio, insetticidi e fungicidi vari.